Però qua è tutto chiuso dove c'è, come si dice, il ristorante, mi sa. Vedi c'è le tribune dove ci sta, fanno le riprese con la televisione. E lì dove c'è i commentatori questo edificio? Sì, c'è una rana, senti questo rumore, ci deve essere una rana, faccio tutta una ripresa così. Ci deve essere qualche rana se fa questi rumori, senti, senti, è lì, guarda, deve essere lì per le rane. Senti, senti, è chiuso qui, è aperto, vediamo se ci si può avvenire qua, facciamo piano perché sennò si libera. Guarda, c'è cosa apposta con la rete, guarda, guarda che lavoro ragazzi. Bellino. Ma che l'avevi la rana, hai visto? Hanno fatto un'coso apposta per le rane. Guarda, c'è anche i pesci. Guarda, tutti i pesci ci sono. però non si vedono perché appena vedono le persone scappano, si tuffano, si nascondono. Segnerebbe, guarda, guarda, eccolo lì. Segnerebbe quando non c'è nessuno, cioè fa di nascosto per prendere le rane, sennò si impauriscono. Vestiti come nell'ottocento. Vedi dove si allenano i cavalli, vedi? C'è il tondi. Sì. No, ma la pelascia è accesa, è che è spenta. Sì, ma la pelascia è stata. Sì, però c'è la rotonda, quella grande grande. Guarda, quando arriva quel camioncino lì si parla vita presidenziale. Non ci si può andare perché Qui non si può andare Sì, là in fondo c'è la villa del presidente Questi sono turisti Sono turisti questi qui Essere inglesi a vederli Capelli arancioni Anche possibile irlandese A me mi garbano gli irlandesi Mi ci vorrebbe a me un irlandese Qui c'è un circolo C'è il trenino come a Pisa Che porta la gente E di qua si va a finire al centro Qui c'è il circolo Stai finendo la batteria della videocamera Eppure, oh Era piena l'altro giorno Eppure, oh E questo è tutto il viale Che ci aveva portato Alla pineta di San Rossone Eppure, oh Alla pineta di San Rossone Eppure, wow Eppure 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 Ok, se poi lo sistemo, questo lo lascio tutto così, lo monto, lo sistemo agli altri. E allora spingo, siamo un ciòmo più mezzalano tutto, però...